Non perdetevi una nuova puntata di quattro chiacchiere con ospite Livio Girivetto Menzio. Livio Girivetto Menzio, scenografo borgialese di adozione, ci presenterà uno spettacolo teatrale, la prima internazionale di uno spettacolo tratto da un suo quaderno di viaggio. Il sogno che avevo è quello di poter rendere un mio cahier spettacolo e quindi l'abbiamo realizzato. L'appuntamento è su OnTV Web venerdì 22 marzo alle 21.